Di solito sentiamo parlare di paesi musulmani, arabi e non, per questioni di politica o economia, petrolio e guerra, insomma. Ma è più interessante vedere ciò che si muove in quelle società, sulla pelle delle persone, donne soprattutto. Prendete l'Iran, terra antica e gloriosa con una popolazione giovane, vivace. Periodicamente torna la questione del velo. In Iran le donne devono indossarlo dai sette anni in su, pena 20 euro di multa o il carcere fino a due mesi. Ma adesso il capo del Tribunale rivoluzionario di Teheran minaccia dieci anni di galera per chi si toglie l'ijab e invia foto o video a Masi Alinejad, giornalista e attivista con un gran seguito sui social che si è inventata la campagna di disobbedienza civile dei Mercoledi Bianchi. Da dieci anni Masi vive negli Stati Uniti e questo aumenta l'irritazione del potere iraniano, clericale e maschile, che fatica a esercitare il controllo. Anche in Marocco comanda un maschio, Mohamed VI, che oggi festeggia vent'anni sul trono. Una stagione di moderato riformismo di cui hanno beneficiato pure le donne con un codice di famiglia attento ai loro diritti, anche se l'impronta è patriarcale. Concessioni calate dall'alto, come la grazia per 4764 detenuti, tra cui 31 condannati a morte, decisa oggi dal re. Il vero salto di qualità si avrà solo con una rilettura intelligente del Corano. Intanto, sono i graffiti sui muri di Casablanca e Rabat a dire che le donne fanno già la differenza, anche nei paesi islamici.